Parliamo di narcisismo o personalità narcisistica e di relazione. Come sapete, se mi seguite, io non sono un particolare amante di questo termine, non perché non riconosca l'aspetto, la componente, la veridicità appunto della diagnosi narcisistica, assolutamente è appunto una delle categorie diagnostiche, uno dei disturbi di personalità, come ho già ampiamente detto. Il problema è che lato mio è eccessivamente utilizzato, c'è una male informazione a riguardo, è sostanzialmente un modo, secondo me anche abbastanza ingenuo, di andare a semplificare, etichettando con una macro categoria di comportamenti, alcuni tratti, alcuni comportamenti appunto, che ognuno di noi può avere all'interno della relazione sentimentale, amicale o nei comportamenti di vita quotidiani. Diciamo che il disturbo narcisistico, quindi il comportamento del narcisista, assume però delle caratteristiche simili all'interno di tutte le relazioni. Da prima, durante la fase di corteggiamento e durante la fase di innamoramento, il narcisista, che sia sano, maligno, che sia overt, covert o chiamatelo come volete, è attento, è attento, è presente, è premuroso, sembra essere di fatto il principe azzurro. Ora parlo di principe azzurro quindi dando una connotazione maschile, semplicemente per il fatto che l'incidenza della patologia è prevalentemente maschile. Ciò non vuol dire che non ci siano narcisisti donne, ma per comodità mi riferisco appunto a quando il narcisista è l'uomo. E quindi è un, diciamo, amante favoloso, è un amante attento, premuroso, sorprende, sembra che non manchi nulla, sembra troppo bello per essere vero. E di fatto è così, nel senso che mano a mano che poi tesse la sua tela e cattura la preda, se così vogliamo dire, all'interno di tutte queste attenzioni e premure, inizia a diventare arcinio, rivendicatorio, pretenzioso, tiranno. Nel senso che inizia a fare delle richieste che sono assurde, lavora sul senso di colpa del partner, inizia a perdere un qualunque tipo di empatia nei suoi confronti, lasciando trasparire appunto il suo intento manipolatorio. Ricordiamoci che il narcisista ha questo grandissimo sentimento di grandiosità, di successo, ha un bisogno di ammirazione, per il quale pur di ottenerlo è disposto a tutto, è disposto anche a sacrificare il proprio partner. E di fatto così succede, le richieste aumentano, le pretese aumentano, le mortificazioni aumentano, e progressivamente il partner del narcisista non capisce più con chi diavolo è finito, non capisce più e non riconosce più la persona con la quale è iniziata una relazione, sino a non riconoscere più spesso. Tant'è che solitamente viene detto da chi ha avuto fattivamente una relazione con un narcisista, io stessa, io stesso, non mi riconoscevo più. Io stesso sono arrivato o arrivata a fare delle cose che non pensavo facessero parte di me. Ho subito, perché poi questa è la sensazione di tutto, nella speranza, nell'illusione di un amore vero, nel tentativo di andare a recuperare quelle sensazioni e quella persona, quel principe azzurro che hanno connotato i primissimi momenti di una relazione. Tant'è che poi la relazione degenera, cioè il narcisista chiede continuamente e in maniera sempre più prepotente al proprio partner di piegarsi alle sue volontà e dai suoi bisogni, mettendo completamente in secondo piano o dimenticandosene proprio i sentimenti, i bisogni e le richieste appunto dell'altra persona. Ora arriviamo alle notizie negative, non tanto in termini di conseguenza che avere una relazione con un narcisista può generare, questo ovviamente andremo magari ad affrontarlo in altri video, quanto al fatto che il disturbo narcisistico di personalità a quanto diversamente viene raccontato non è così frequente. Non è così frequente nel senso che l'incidenza che solitamente viene, scusate, individuata per il disturbo narcisistico è di circa l'1%, vuol dire che circa una persona su 100 circa quindi con una prevalenza principalmente nel genere maschile piuttosto che in quello femminile è un narcisista. Questo che cosa vuol dire? che non tutte le persone che hanno delle caratteristiche ad esempio egoiste, presuntuose, pretenziose o che sono manipolatorie possono essere ascritte all'interno del grande calderone del narcisismo e non tutte le relazioni, a differenza di quanto sia invece più comodo pensare, di fatto hanno a che fare con un narcisista. Questo perché lo dico? Perché in rete si trovano tantissime guide, tantissime istruzioni, tantissimi consigli su come riconoscere il narcisista, su come sopravvivere ad una relazione con un narcisista, su come avere una relazione con un narcisista. Magari qualcuno si spinge anche di più su come diventare un narcisista all'interno di una relazione, ma sono tutte guide, consigli, strategie che secondo me lasciano il tempo che trovano. Perché sono, al di là che una grande operazione di marketing come in tanti altri componenti, in tanti altri sintomi, in tante altre patologie della psicologia, ahimè è già accaduto, vengono utilizzati di fatto per accalappiare pazienti, per accalappiare clienti. Perché dico questo? Perché se è vero, e questo è vero, che il disturbo narcisistico ha un'incidenza di circa l'1% sulla popolazione, è altrettanto vero che non è così frequente. E quindi è altrettanto vero che etichettare tutte le relazioni che non ci sono piaciute, che non sono andate bene, che hanno manifestato alcuni tratti che possono essere ascritti ad un disturbo narcisistico, ma che di un disturbo narcisistico non sono, non mi ha aperto la portiera, non si è presentato all'appuntamento, ha preferito andare a giocare a calcetto con gli amici piuttosto che uscire con me, preferisce passare il tempo sul divano piuttosto che portare a fare un giro, sono concentrati solamente sulle sue, di bisogni, sulle sue, di attenzione, anziché su ciò che potrebbe far stare bene a me, non sono necessariamente un disturbo narcisistico, diventano una scusa per giustificare un proprio fallimento. Ed è proprio questo il problema. Nel senso che etichettare, dare questa, segnare questa categoria, dire bene, ho avuto una relazione con un narcisista, è un problema, è un problema su due aspetti. Uno perché è una ingiusta ed inutile semplificazione, sia su chi ha sofferto questa relazione, cioè quindi, e su chi l'ha agita, cioè vuol dire che con questa etichetta in un qualche modo si va a giustificare la persona, quindi la si etichetta come narcisista e non gli si dà la possibilità di cambiare, cioè io siccome considero, penso, ritengo che tu sia così l'appunto narcisista, allora non mi prodigo nel tentativo di farti cambiare, oppure non rinuncio alla relazione per come invece dovrei. O, secondo caso, semplifica e rende statica e inerme la vittima, cioè non fa riconoscere alla vittima il proprio sbaglio, cioè con lei o colui che ha avuto una relazione con un narcisista, semplicemente giustificandola e dicendo poverina, poverino, non è colpa tua, di fatto tu sei finito in una relazione con un narcisista, senza considerare le proprie colpe, senza considerare i propri abbagli, senza considerare i propri errori, l'incapacità magari di scegliere su un partner, il fatto che ci si ritrova costantemente in relazioni di questo tipo, e quindi il problema di fatto non è narcisista, quanto la capacità nostra di andare a valutare le persone delle quali appunto ci innamoriamo, con le quali vogliamo intraprendere una relazione. E quindi questo fascio, questa semplificazione, in questo termine narcisista viene ormai, ahimè, troppo abusato e di fatto riempie sicuramente gli studi dei dottori, degli psicologi, degli psicoterapeuti, talvolta degli psichiatri, che però finché collassano su questa inutile e semplicistica rappresentazione della relazione, prevedono e propongono delle terapie che sono inevitabilmente statiche. Chiaro che la relazione con un narcisista genera un certo tipo di sofferenza, genera una certa fatica, genera un certo dolore, però questo dolore non deve essere banalizzato, questa fatica non deve essere semplificata e questi errori non devono essere semplificati. Né in ottica del carnefice, lui è narcisista e quindi fa così, né in ottica della vittima, sono finito in una relazione con un narcisista e quindi ahimè sono il povero pulcino nero sfortunato che non avrà mai niente, non otterrà mai niente alla vita. No, tutto falso. Il narcisismo colpisce l'1% della popolazione, tutto il resto sono dei tratti simili, delle caratteristiche simili che magari una persona può assumere all'interno della relazione e quindi c'è un ruolo, una responsabilità sicuramente del narcisista ma anche della vittima, chiamiamola così, che finisce all'interno di questa relazione e che concede e permette questa relazione. Per stare bene dobbiamo sicuramente riconoscere questi due ruoli e lavorare, ci so che ci compone, in base a qual è la posizione all'interno della coppia che assumiamo, che occupiamo.